Il parlamentare siracusano Paolo Ficara ha depositato un'interrogazione sulla privatizzazione dell'aeroporto Fantana Rossa di Catania. Privarsi della gestione pubblica, dice, di un bene fondamentale per l'economia dell'isola e che serve a un territorio vastissimo e produttivo che abbraccia oltre tre province, significherebbe concedere l'ennesimo favore ai grandi gruppi privati. Un errore strategico e potenzialmente dannoso per l'intero sistema aeroportuale economico siciliano, con ricadute che potrebbero essere devastanti, ad esempio anche per l'aeroporto di Comiso. Qui si vuole privatizzare un'infrastruttura pubblica che negli ultimi anni, pur con tutti i suoi limiti, ha prodotto utili nonostante le ridotte capacità di investimento dei soci pubblici come il comune di Catania e l'ex provincia regionale di Siracusa, entrambe in dissesto. Ricordiamo che il 12,5% di SAC è dell'ex provincia regionale di Siracusa e dopo aver subito lo smacco della rappresentanza nel CDA, adesso la vendita della quota azionaria da parte della Comcom del sud-est e quindi la perdita del controllo pubblico sarebbe un altro duro colpo. Fontana Rossa è arrivata ai livelli in cui è grazie ai soldi dei contribuenti, mentre ora si pensa di servire la tovaglia paracchiata ai privati che nulla hanno messo per questi risultati. Se proprio si deve vendere per ragioni di casse e di maggiori investimenti, si vendono le quote di minoranze e si assicuri ancora il controllo pubblico sulla gestione dell'aeroporto di Catania. Ancora Paolo Ficara, componente della Commissione Trasporti della Camera, nella sua analisi segnala come anomalia tutta siciliana la presenza di sei diverse società per gestire altrettanti scali, i due principali Catania e Palermo, gli aeroporti minori di Comiso e Trapani e per quelli di Lampedusa e Pantelleria. Una o due società sarebbero più che sufficienti per una gestione di indirizzo pubblico. A quel punto, e con la forza di numeri dalla propria, si potrebbe focalizzare quella che è la reale necessità degli aeroporti, del turismo e dell'economia siciliana, una rete di collegamenti e mezzi di trasporto che oggi purtroppo non esiste, anche e soprattutto tra le stesse aerostazioni. E questo perché la Regione ha sin qui disatteso il suo ruolo guida nello sviluppo strategico del settore.